un signore che ha una fortissima impotenza va in farmacia dottore buongiorno ascolti dottore mi dia qualcosa per favore di forte per l'erezione perché io no guardi lei è proprio fortunato proprio ieri c'è arrivata questa nuova pasticca qui che è miracolosa guardi è 100 volte meglio del viagra ah sì dottor ma quanto costa e costa 50 euro ammazzo costa troppo dottore via me faccia un po di sconto no guardi lo sconto su questo non lo possiamo fare mi faccia lo sconto per favore via ma tolga qualcosa no aspetti allora vado a sentire un attimo il titolare il farmacista si gira va nella stanza del titolare ma quando torna non trova né la pasticca nel signore il tizio torna a casa prende la pasticca e la sera si tromba almeno dieci volte la moglie un successone la mattina lo racconta l'amico e l'amico invogliato va subito in farmacia a comprarla dottore guardi vorrei qualcosa per l'erezione c'ho c'ho un po di problemi sì guardi ci abbiamo una pasticca veramente miracolosa eccezionale sì dottor ma quanto costa allora il dottore per recuperare i 50 euro del giorno prima gli fa e guardi costa 100 euro ammazza però no 100 euro tantissimo dottor me tolga qualcosa no mi dispiace guardi su questa non possiamo fare sconti e vabbè dottor la prenderò ma lei pensa che funziona sì funziona veramente vero dottor guardi è straordinaria consideri che ieri è venuto un cliente appena l'ha presa in mano ci ha inculato a me e al titolare se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis grazie grazie Grazie.